cari fratelli e sorelle merasurre sono sempre don cherubino inter mamma mia che settimana che settimana gli hanno fatto lo scherzone alle mie alle mie suorine non gli hanno non riesco neanche a dirlo non riesco neanche a dirlo per quello che gli hanno fatto gli hanno fatto proprio uno scherzone perché gli hanno come si può dire messo dei semi nel giardino di marioana ecco il mario gilera gli ha fatto lo scherzone sono venute su queste piantone qui loro pensavano che fosse un insalatona qualcosa di simile non hanno fatto un minestrone si sono messe a cantare lì allegre che facevano un macello sono intervenuti i carabinieri è successo un disastro me le volevano arrestare per spaccio mamma mia che disastro quando la suor dalida ha scoperto che era stato lui vi lascio immaginare ne ha fatte di ogni è preso giù la moto spalmata di nitroglicerina come l'ha visto spattasniaus ma stagnaus spattasniaus spattasniaus gli ha fatto fare un è in ospedale gli ha spettasciato mezza mandibola lì che deve mangiare con la cannucetta adesso anche l'hanno denunciata eccetera un disastro un disastro fratelli guardate una settimana tremenda tremenda non ci siamo visti la settimana scorsa ne sono successe di ogni l'alatona gli fa questi scherzi qua quindi lei si arrabbia e lo sapete che la suor dà per di più ve l'ho detto col fatto che non può venirsi a sfogare coi bimbi che gliene dice per tenerli buoni lei sa come tenerli buoni basta lo sguardo eccetera però era lì rinchiusa in convento eccetera 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 gli hanno fatto lo scherzone di seminargli la marijuana si può andare a seminargli la marijuana nel convento e loro non se ne intendono hanno visto crescere ste piantone le hanno pensate che fosse della versa o qualcosa di simile l'han tagliata l'han fatto ci hanno fatto il minestrone e la sua ordalida adesso è va bene staremo a vedere cosa deciderà il santo padre cosa vorrà fare probabilmente la perdonerà però gli all mi sa che gli darà l'amonimento eccetera i genitori del mario hanno detto ha fatto bene perché la deve smettere di comportarsi in questa maniera deve portare rispetto per l'abito talare però lui è fatto così però stavolta ha preso gli spatafloni ha preso preso gli spatafloni e come se li ha presi è perché quando la sua ordalida si arrabbia è peggio dell'ul che peggio per il resto la parrocchietta va tutto bene tutto tranquillo i fidanzatini vanno d'amore d'accordo l'andrea con la benzinaia vanno d'amore d'accordo l'unica cosa devono continuare a rinviare il matrimonio perché qua siamo sempre in zona gialla rossa arancione verde blu bianca mai bianca solo in sardegna c'ho i preti della sardegna che mi mandano i fassa e noi siamo liberi e noi facciamo quello che vogliamo e noi siamo in zona bianca ci prendono per i fondelli ci prendono e noi no e noi siamo in zona gialla arancione rossa gialla arancione rossa ma manco fossimo un semaforo non ho veramente parole la la sindi sta dando esami su esami ha dato quattro esami 2 28 un 29 un 30 con limonata non il 30 lode il 30 con limonata c'era il professore giovane ha risposto che è un piacere sono andato a vederli adesso è tanto sono rintanato qua nel nel conventino nel nella parrocchietta e quindi ho detto va bene visto che devi dare l'esame vengo anch'io così ti do qualora qualora non dovesse andare bene ti do rinforzo morale mica c'è stato bisogno quando ho preso il voto più basso è stato 28 un 28 l'esame più difficile tra l'altro quello difficile 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 poi ha preso un 29 il 30 bacio accademico limonata accade quello che c'era il professore se era esaltato sera capisco che è stata bravissima risposta a tutte le domande gli alieni adesso ne sapeva quasi più del professore capisco che per di più la sindia la sindi e c'è poco da fare anch'io che sono sacerdote alzo le mani perché lei non è non è bella è bellissima è bellissima è bellissima la sindia è bellissima e quindi vabbè poi ha un altro 30 quattro esami dati tutto va bene adesso ne sta già preparando altri due per la sessione estiva perché ha detto tanto siamo qua rintanati poi almeno sono libera e mi faccio sei mesi spero quando non ci sarà più sta cosa qui e recupero il tempo perso perché sta anche lei sclerando e allora a sto punto si è messa a studiare i suoi genitori dall'america sono felici e contenti come delle pasque perché sta dando gli esami gli sto informando lei informa loro poi sono in contatto con l'università perché non si fidano perché sanno che io sono buono e quindi la proteggo sempre per il resto cari fratelli e sorelle nerasur la nostra inter funziona che è un piacere anche quando non ci vediamo vince lo stesso con sofferenza è perché con l'atalanta è stata una sofferenza però ce l'abbiamo fatta tre punti pesantissimi portati a casa ma ha segnato il milan ma ha segnato il milan l'unico milan che noi tuffiamo lo scrignar detto anche scrigno da ciabattata diciamolo ha tirato una ciabattera linare ha tirato la ciabattata l'ha messa nell'angolino meno male un golonzo che va benissimo oggi ci abbiamo la partita col torino speriamo in bene torino falcidiato non gioca neanche in culo scusate il francesismo ma se si chiama così non è mica colpa mia quindi almeno non ce lo possono ecco vabbè non dico niente che sono sacerdote che è meglio meglio sorvolare ecco ci siamo capiti non ce lo posso mettere nel bip perché non c'è un culo e meno male quindi speriamo che i nostri lucaco e lautaro ci diano dentro che è un piacere tre quattro gol tutti e due in coppia tornino a fare quello che facevano fino a due settimane fa perché hanno smesso di fare gol io non capisco perché non capisco non capisco non fanno più gol comunque domani ahimè pare che giocherà a gagliardini sono già preoccupato perché poi anche domenica scorsa anzi lunedì sera quando è entrato gagliardini non ne ha fatta una giusta ha preso un pallone l'ha buttato fuori era lì che c'aveva la palla la persa ha fatto un fallaccio non ne ha fatto in dieci minuti non ne ha fatta una giusta non ha fatto danni meno male però era lì che vabbè lasciamo perdere fortunatamente disastri non ne ha fatti poverino lui l'impegno ce lo mette sempre ci mancherebbe gagliardini è proprio ligio al dovere si impegna ci si dà da fare però è gagliardini ahimè vidal si è fatto male l'hanno operato speriamo che rientri e faccia almeno due mesi decenti perché sinceramente l'anno scorso ci avevamo una ingolana e non è stato all'altezza della situazione quest'anno è arrivato vidal meglio sorvolare perché ahimè speravamo facesse qualcosa di buono l'unica cosa buona è stato il gol alla juventus per il resto si è fatto buttare fuori con real madrid così almeno abbiamo perso la partita e probabilmente quella è stata la partita che non dovevamo perdere anche perché non è possibile perdere con real madrid che perde tutte e due le partite con lo chattardones e la roma ha fatto vedere quanto vale lo chattardones tre papine e noi manca un gol due partite manca un gol abbiamo spaccato le traverse sono ancora lì che tremano sia quella di san siro che quella dello stadio del di dones perché le abbiamo anzi tra l'altro le abbiamo prese tutte e due le traverse nello stadio di dones stanno tremando tutte e due ancora adesso sono i tu 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 ne hanno dovute cambiare le porte perché avevano paura che si crepassero del tutto furia di du 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 e però noi prendiamo le traverse gli altri fanno i gol e noi andiamo a casa poi va bene c'è stata anche la juventus che regala sempre gioia ai tifosi nerazzurri perché loro quando arriva la pasqua e non mangiano mai la colomba vanno sempre a casa prima dalla champions se arrivano in finale fanno da sparring partner perdono anche quando dovrebbero vincere e vabbè si vede che non è nel loro dna che ci volete fare io speravo andassero un attimino avanti anche perché francamente per il bene dell'italia avere qualche squadra in europa almeno fino alle semifinali sarebbe importante fa niente se non c'è l'inter l'importante che qualcuno vado avanti e porti a casa qualche punticino per il ranking perché se no tra un po' torniamo ad avere solo tre squadre non quattro e non è bello perché tutti a dire che meglio sono usciti e sì però poi dopo quando ci sono tre squadre in champions anziché quattro e tu arrivi quarta e non ci vai e che bello che bello che bello comunque cari fratelli e sorelle nerasur io mi fermo qui che se no vi annoio vi ammorbo dimico la formazione di domani teorica che dovrebbe essere andanovic scrignard evrai bastoni akimi e perisic sulle due fasce brosovic barella e gagliardini speriamo in bene e poi dopo in attacco non si sa se lukaku sarà affiancato da lautaro da sanchez perché una volta dicono lukaku lautaro una volta dicono sanchez e sanchez e lautaro no conte vuole mettere in campo lautaro no mette dentro il sanchez perché ha fatto la doppietta e non lo mette e lo mette non lo mette lo mette non lo mette e vabbè basta che si decidano perché se no poi anche loro non non ci capiscono più niente comunque cari fratelli e sorelle nerasur io vi mando la mia benedizione come sempre e ci vediamo la settimana prossima sperando che il mario gilera adesso sta tranquillo un mese lì in ospedale la sordalida me la scarcerino si scarcerino lì decidano cosa fare perché appunto c'era il problema che è andata a picchiare il mario gilera e meno male che non l'hanno denunciata però il pape si era abbastanza arrabbiato la volevamo andare a fare in clausura letterale proprio perché così impara deve stare tranquilla ma lei non può stare tranquilla è una corazzata e quando si arrabbia si arrabbia la corazzata Yamato si arrabbiava lei è la corazzata Dalida quando si arrabbia combina ste cose vabbè cari fratelli e sorelle nerazzurre io vi saluto vi ringrazio vi mando la mia benedizione e ci vediamo la settimana prossima amen